ragazzi eccoci a black friday rush dobbiamo raccogliere tutte le offerte let's go ok ragazzi voglio tutte le offerte capito tutte le offerte che vedete in giro offerte sconti tutto quanto dobbiamo prenderlo ci sono dieci offerte ancora tra noi dieci offerte eccola qua eccola la prima l'abbiamo mancata riproviamo un'altra volta la vedo lì in fondo ragazzi bravi bravo fate proprio schifo però provate un'altra volta il black friday deve andare in italia perché dobbiamo diventare tutti comunisti consumisti consumisti spendere spendere un sacco di soldi e poi per riguadagnare i soldi andate a lavorare e dopo che siete andati a lavorare andate a spendere i soldi con i soldi che avete speso comprate cose inutili e poi tornate a lavorare capito così vi abbiamo già organizzato tutta la vostra vita non dovete fare altro vabbè ragazzi se non siete pronti per giocare ditelo mettete l'hard mod on e provate così così lavorate di più e potete anche guadagnare di più ragazzi avete visto è un divertimento senza fine basta vabbè non siete capaci basta